Sono da Milano, ma in sede vedete Monica Pratesi, che è il capo del Dipartimento per la Produzione Statistica, al suo fianco è Fabio Bacchini, responsabile del servizio Analisi Dati e Ricerca Economica, Sociale e Ambientale e sempre in collegamento Cristina Freguia, la direttrice responsabile delle statistiche sociali e del Welfare. Con loro affronteremo tutti questi dati, facciamo due giri, uno per illustrare l'IPCA al netto degli energetici, un secondo giro per illustrare il quadro macro e le nuove prospettive. Io do subito la parola a Monica Pratesi, la direttrice appunto del Dipartimento di Produzione Statistica dell'Istat. Prego Monica, grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi e grazie per darmi l'opportunità di rappresentare l'impegno dell'Istat in questo periodo in cui i movimenti degli aggregati macroeconomici sono piuttosto importanti e complessi da seguire. Oggi presentiamo le prime previsioni dell'anno sul quadro macro. La seconda previsione verrà fatta a dicembre, con prodotto interno lordo e contributi alla crescita, stimati con il modello MEMO-ICT dell'Istat. Inoltre la nota sulle previsioni dell'indice IPCA, al netto dei beni energetici importati. IPCA-NEI, lo dico con l'acronimo perché spesso lo troviamo indicato così. Questo è un indicatore importante perché è il riferimento per i rinnovi contrattuali e sapete voi quanto questo tema sia di interesse. Ora, la previsione che abbiamo presentato stamani tiene conto anche dei cambiamenti di metodo che sono stati introdotti relativamente alla scelta dell'indicatore di riferimento da utilizzare per i prezzi dei beni energetici importati. Su questo sarà più specifico fra poco il collega Fabio Bacchini. Quest'indicatore, come sicuramente sapete, è considerato come riferimento per la contrattazione collettiva dall'accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. L'indicatore non rientra fra quelli diffusi mensilmente dall'Istat all'interno del comunicato sui prezzi al consumo, dove invece abbiamo l'IPCA al netto della componente energetica, non quella importata. Allora, è chiaro che l'eccezionalità della situazione che stiamo attraversando, come ho detto prima, e poi gli scenari anche un po' incerti, soprattutto sulla questione dell'approvvigionamento dell'energia, tutto questo potrebbe richiedere un aggiornamento di IPCA nei, e questo è un aspetto che sia le parti sociali che il governo potranno considerare. Comunque, Istat ovviamente è pronta a effettuare tutte le elaborazioni che saranno necessarie. Agganciandomi a questo, cioè alla situazione complessa che stiamo vivendo, vorrei dire di nuovo, prima di dare la parola a Fabio, che Istat ha effettivamente passato due anni e sta continuando a passare un periodo di forte impegno e di grande sforzo per mettere a disposizione di tutti dati sulla congiuntura economica. Del resto, Istat è allenata perché nei due anni appena passati, diciamo così, di pandemia, l'Istituto è stato chiamato a fornire dati sempre più tempoestivi, per quanto possibile, per quantificare l'impatto sociale e sanitario della pandemia. Quindi, a seguito, e per ribadire, anche sul fronte dei prezzi e dell'inflazione, Istat non si tira indietro. E per quanto riguarda l'inflazione, ogni trimestre quest'anno produciamo un'analisi sull'impatto del potere d'acquisto delle famiglie suddivise per quintili di spesa equivalente, che è un avanzamento importante per l'interpretazione di tutti. Questa è un'analisi che veniva effettuata solo due volte l'anno e con noi in conferenza stampa c'è la collega Cristina Freguia, che su questa produzione statistica vi potrà fornire tutte le delucidazioni e rispondere alle vostre domande, se ci saranno. Dal mese prossimo, con la nota metodologica, scusate, introdurremo anche un nuovo indicatore per la previsione a breve del prodotto. Quindi, inoltre, uno strumento di now casting che è messo a punto dal servizio analisi dei dati e ricerca economica. Quindi, un panorama ben testimoniato e io passo a Fabio la parola per parlare del primo tema di oggi. Ipka Ney. Prego, Fabio. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Solamente due cose per evidenziare i cambiamenti metodologici che abbiamo fatto nella nota per quanto riguarda Ipka al netto dei beni energetici importati e per evidenziare quello che può essere un tema di discussione. Allora, quello che noi abbiamo fatto, come vedete alla nota metodologica, il risultato dell'indice Ipka al netto dei beni energetici è il risultato di tre componenti. Una componente che ha a che fare con il peso che i beni energetici hanno nel paniere Ipka, che possiamo considerare esterna a questo sistema di calcolo. Un altro elemento che invece è l'elasticità, l'abbiamo chiamata, cioè la reattività che supponiamo ci sia tra l'Ipka beni energetici e l'indicatore di riferimento per i beni energetici importati. Cioè, quando aumentano i prezzi dei beni energetici importati, quanto questo aumento si riversa, si riflette sui beni energetici all'interno del paniere Ipka. E il terzo elemento di questa storia è l'indicatore di riferimento. Partiamo dall'ultimo, l'indicatore di riferimento. Il cambiamento che abbiamo fatto è stato di passare da quella che era la misura consolidata sul prezzo del petrolio, con una media dei due indicatori principali di riferimento, siamo passati all'utilizzo dei prezzi all'importazione. Perché questo cambio? Beh, uno, ai tempi, quando è stata fatta la prima versione della metodologia, non erano disponibili i dati di dettaglio dei prezzi all'importazione. La seconda cosa è che, se andiamo a vedere il dettaglio dei prezzi all'importazione dei beni energetici, scopriamo anche che dall'inizio del 2022 sono disponibili i prezzi separati per il petrolio e per il gas. E questo elemento di dettaglio è particolarmente importante in questo periodo in cui le dinamiche tra prezzi del petrolio e prezzi del gas hanno qualche sfasamento e qualche diversità di intensità. Quindi sostituzione di un indicatore esterno alla produzione corrente dell'ISTAT con un indicatore presente e disponibile ogni mese all'interno delle basi dati dell'ISTAT. Perché ogni mese, tra l'altro? Perché effettivamente, come diceva anche Monica prima, la fase che stiamo vivendo richiede un monitoraggio abbastanza costante e tempestivo delle informazioni disponibili. Qual è l'impatto del cambiamento dell'indicatore di riferimento? Lo potete vedere nella nota metodologica nella figura 1. Sostanzialmente molto contenuto. Anzi, direi che è quasi, come dire, in tendenza perché quello che entra nel calcolo è la variazione media annua dell'anno T con l'anno precedente. In tendenza la dinamica è pressoché simile. Tant'è che la decisione è stata di utilizzare fino al 21 il vecchio indicatore e invece dal 22 utilizzare i prezzi separati di petrolio e di gas della serie di prezzi all'importazione. Quindi questo cambiamento è effetto dal 22 ma nella ricostruzione l'impatto è stato solo marginale. La seconda considerazione invece riguarda l'elasticità. Allora, l'elasticità, qui potete vedere la figura 2 nella nota metodologica, quel parametro che noi abbiamo continuato a tenere fermo a 0,18 che annualmente veniva confermato dalle stime con i nuovi dati, effettivamente a partire da giugno 2021 mostra qualche problema, nel senso che le equazioni che noi utilizzavamo a partire da giugno non hanno più un comportamento statisticamente congruo. Che cosa vuol dire? Che se utilizziamo la stima della vecchia elasticità tutti i dati da giugno 2021 in avanti sono considerati degli outlier. Ma che cosa vuol dire? Lo vedete al grafico. che l'equazione non riesce ad adattarsi tempestivamente a quello che è di fatto, in termini tecnici, un cambio di livello. Quindi o trattiamo quella parte lì come outlier, un po' se per le persone che hanno seguito un po' più la congiuntura, se vi ricordate un problema analogo è stato nel periodo marzo-aprile del 2020 per tutti gli indicatori congiunturali. Quel fenomeno lì era un outlier oppure lo dovevamo interpretare statisticamente con i vecchi modelli? La decisione fu quella prevalente di introdurre degli outlier. Qui non lo abbiamo fatto. Perché? Perché, come sapete, la metodologia è figlia di un accordo e di una discussione con le parti sociali. Quindi il valore che abbiamo presentato ha dentro lo 0,18. Però sottoponiamo all'attenzione di tutti il fatto che quello 0,18 vale in tempi normali. E in tempi normali, quello che potete vedere nella nota metodologica, abbiamo anche una stretta vicinanza dell'indicatore IPCA al netto energia e l'indicatore IPCA al netto dell'energia e l'indicatore dell'energia al netto dei beni energetici importati. Questa vicinanza è saltata solo in due periodi. Quindi la distanza tra questi due indicatori è stata particolarmente rilevante solo nel 2012 e nell'anno corrente. Quindi questo è un tema da tenere in considerazione. Cioè stiamo vivendo con una differenza tra questi due aggregati particolarmente rilevante. E' particolarmente rilevante considerando il confronto tra la stima che facciamo per il 22, che è 4,7 dell'IPCA al netto dei beni energetici, e il tendenziale dell'IPCA energia che era a maggio 3,9. Se voi guardate i dati da gennaio a maggio scoprite anche che questo valore ha un progressivo aumento. Quindi anche lì noi abbiamo fatto un confronto con il dato di maggio, ma se uno fa il confronto con l'acquisito la distanza è ancora più ampia. Facendo un breve recap, il 4,7 è conforme alla vecchia metodologia tenendo lo 0,18 e cambiando solo l'indicatore di riferimento, in cui il peso del gas, soprattutto nei primi mesi dell'anno, è più importante. La seconda considerazione è, attenzione, perché come vedete dalla figura 2, se noi siamo abbastanza certi che l'elasticità di 0,18 possa essere adatta nei periodi passati, diciamo il periodo che vedete dal 2010 al 2020 e sono i 10 anni di riferimento in cui l'elasticità ha tenuto, qualche dubbio sulla tenuta statisticamente parlando di questa elasticità ce l'abbiamo per gli ultimi mesi. Quindi come considerare e come considerare dal punto di vista metodologico questa eccezionalità e come interpretare questi dati all'interno del più ampio dibattito sull'adeguamento delle retribuzioni contrattuali, direi nel primo caso, come diceva Monica, l'Istat adattuta la disponibilità per ulteriori sviluppi della metodologia. Sul secondo direi che diciamo è compito di altri seguire questo tipo di dibattito. Spero di essere stato chiaro, grazie. Grazie Fabio, direi chiarissimo abbiamo appunto, diciamo questa è un po' la situazione dell'IPCA NEI al netto degli energetici e questo è il tema poi del confronto che si dovrà aprire. Non so se Cristina che è in collegamento vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto o se vuole aggiungere qualche considerazione sul dato dell'IPCA al netto degli energetici che pubblichiamo questa mattina rispetto a quel dato che a fine aprile avevamo dato su l'ipotesi di perdita di potere d'acquisto alla luce dei contratti che erano stati rinnovati in quella parte dell'anno. Ricordo ai colleghi che in questa a fine marzo risultavano con contratti non rinnovati all'incirca il 50 e rotti per cento dei lavoratori. Cristina prego se ritieni di aggiungere qualche considerazione. Davide sì effettivamente la situazione quando abbiamo fatto quella diciamo l'esercizio che evidentemente metteva in luce la difficoltà che stiamo vivendo dal punto di vista dell'inflazione scontava ancora una situazione di mancata rinnovo contrattuale del più del 55% se non ricordo male dei lavoratori quindi dobbiamo aspettare diciamo il prossimo aggiornamento per verificare che cosa stia succedendo del resto nelle ultime settimane c'è stata diciamo una escalation contrattuale diciamo con il rinnovo di molti di molti contratti quindi dovremo valutare come effettivamente si siano comportati che tipo di incrementi abbiano utilizzato per poter verificare quanto effettivamente si sta muovendo e in che direzione grazie Cristina ci sono già delle domande io magari accoglierei le domande su questa parte per poi fare un secondo giro sulle previsioni macroeconomiche Gavin Jones di Reuters prego sì buongiorno mi sentite? buongiorno certo grazie avete detto che questo indice dell'IPCA al netto dell'energia importata era base per le repubzioni contrattuali ma quali? cioè quali sono i settori che hanno i loro aumenti calcolati in base a questo indice non è una specie di scala mobile in questo senso cioè non sono sì la domanda è quella quali sono i settori tutti i settori i settori pubblici il settore pubblico del settore dei gambieri insomma questa è la domanda forse Fabio può rispondere io credo di poter dire da parte mia che questo vale come riferimento per la contrattazione collettiva di tutte le categorie per esempio nella seconda parte dell'anno dovrebbero essere rinnovati i contratti del commercio e dei del settore alimentare per fare un esempio ecco questo è un riferimento non obbligatorio è un riferimento come diceva prima il collega Bacchini che le parti sociali possono utilizzare è un riferimento che è stato come dire impostato metodologicamente alla luce di un accordo e di una convenzione fatta nel 2009 quindi come tutte le cose risale a un tempo che è piuttosto lontano ci sono state due due profonde recessioni da allora a oggi e quindi è probabile come dicevamo prima che una riconsiderazione sull'impianto metodologico sia maturata insomma però Fabio forse puoi rispondere anche tu solo per dire che questo indicatore viene considerato come riferimento per quell'accordo che diceva Davide dopodiché e questo indicatore nasce su iniziativa delle parti sociali cioè l'accordo iniziale era firmato a tutte le associazioni di categoria perché perché quello che si voleva cercare di fare era di depurare l'inflazione dall'effetto dei beni energetici importati quindi questo era l'obiettivo ed è per questo che abbiamo sottolineato come la situazione attuale sia abbastanza complicata nel come dire nel tentativo di depurare perché perché quello che stai depurando è di fatto uno shock e quindi diventa complicato gestirlo sulla su come poi questa informazione viene gestita all'interno delle contrattazioni salariali devo dire non è esattamente il nostro il nostro compito ma ma è come dire l'informazione di base sulla quale poi si sviluppa la contrattazione come diceva Cristina prima abbiamo circa il 55% di contratti ancora da rinnovare nel corso dell'anno e quindi il tema di sapere se l'indicatore di riferimento è adesso faccio un esempio brutale o 2 o 10 è abbastanza importante tutto qui posso aggiungere una cosa va bene sarò velocissima cioè IPCA questo indice prezzo al consumo armonizzato per i paesi europei lo dico sciolgo l'acronimo è un riferimento ma non è l'unico e non ci sono automatismi questo è importante da cioè Istat offre un'informazione ottenuta con diciamo il top dei metodi che la comunità scientifica che riguarda questi argomenti riconosce come validi oggi ma poi non voglio dire che fa come Ponzio Pilato ma insomma fornisce un'informazione che poi le parti sociali e il governo useranno quindi non c'è nessun automatismo è una precisione solo per questa è una previsione di media annua cioè 4,7 è il tasso di inflazione di quest'indice che prevedete in media annua giusto? Sì Sì Davide anedoticamente volevo aggiungere che è talmente un riferimento che nel caso per esempio del settore edile invece gli incrementi sono stati decisamente più sostenuti proprio perché il settore ha avuto una performance particolarmente una performance particolarmente insomma positiva in questo momento e quindi diciamo così fra virgolette si è potuto permettere di rinnovare con un incremento ancora più elevato Certo no infatti questo come si diceva è un campo delle parti sociali anche i chimici per esempio che stanno in trattativa per il rinnovo stanno ragionando stando agli articoli che leggiamo tutti sui giornali su valori anche diversi ma questo fa parte di un altro campo io non vedo altre mani alzate non ci sono altre domande sull'IP cannetto degli energetici che appunto noi abbiamo abbiamo voluto accompagnare con questo momento di approfondimento proprio perché diciamo che nella sua nella sua vita di qualche a quasi quasi 12 anni insomma questo questo indice fa notizia quest'anno perché è chiaro che rispetto ai valori su cui si è mossa negli anni precedenti ma tutto ciò che è legato all'inflazione ci trova improvvisamente come dire impreparati perché la novità è che è tornata all'inflazione dopo almeno 15 anni di totale non inflazione se non ci sono altre domande su questo tema se i colleghi sono d'accordo passerei al secondo punto della conferenza stampa cioè il quadro macroeconomico che presentiamo con le previsioni di oggi è un quadro che è il primo dei due che fa Istat nel corso dell'anno col suo modello Memoit i dati li avete visti a te Fabio l'illustrazione che ritieni allora grazie molto grazie Davide molto brevemente i punti che mi sembrano più interessanti del quadro previsivo allora la prima cosa è che il quadro incorpora le informazioni sul primo trimestre e le informazioni sui conti nazionali del primo trimestre sono stati come dire particolarmente positivi per la parte di investimento cioè l'intensità della crescita degli investimenti attesa magari per il comparto costruzioni ma la forte crescita anche della componente dell'asset sui macchinari e attrezzature era particolarmente in attesa il che ha portato dal lato della domanda una spinta alla crescita del PIL ma sostenuta prevalentemente dagli investimenti al contrario la parte dei consumi delle famiglie ha segnato un arretramento estendendo un po' il risultato già debole che c'era stato nei consumi delle famiglie nel quarto trimestre del 2021 quindi abbiamo di fronte una sorta di eterogenità almeno nei comportamenti tra le famiglie e le imprese almeno a dati attuali questa eterogenità si riscontra anche nelle informazioni sulla fiducia se voi avete visto la fiducia delle famiglie dei consumatori scusate ha avuto un crollo nel periodo marzo aprile per poi segnare un modesto recupero a maggio allo stesso tempo la fiducia delle imprese invece ha subito una parziale diminuzione ma non con un'intensità così pronunciata come quella dei consumatori e in particolare ha assunto anche delle caratteristiche di eterogenità a livello settoriale con ancora una volta una dinamica particolarmente brillante per le costruzioni un parziale ma modesto arretramento della produzione industriale quindi con una diminuzione anche delle attese di produzione del portafoglio ordini ma questa è in linea anche con il dato della produzione industriale nel primo trimestre nel valore aggiunto dell'industria in senso stretto nel primo trimestre e quindi questo dal lato della domanda interna e il quadro previsivo di fatto mantiene questa impostazione con una stimando una dinamica particolarmente brillante per gli investimenti in corso d'anno e una decelerazione nel corso del 23 per quanto riguarda le famiglie ci si aspetta un parziale recupero dei consumi in corso d'anno ma di un'entità abbastanza contenuta che cosa significa che la crescita sarà sostenuta dalla parte degli investimenti perché nel corso dell'anno corrente la domanda estera netta fornirà un contributo negativo ma questo è legato alla differenza che stiamo riscontrando già presente nei dati del primo trimestre tra l'intensità delle importazioni e quella dell'esportazione che cosa accadrà estendendo questa figura nel corso d'anno e come dire estendendola anche al 23 anche se con intensità più contenuta perché nel 23 avremo una crescita dell'import e dell'export più o meno della stessa intensità le stime che forniamo mentre nell'anno corrente ci si aspetta una crescita delle importazioni maggiore di quella dell'esportazione questa dinamica influirà pesantemente sul saldo della bilancia commerciale e questo è un punto secondo me da tenere in forte considerazione e che può rappresentare a lungo andare una criticità quindi anche perché veniamo da un periodo in cui il saldo della bilancia commerciale invece come dire ha costituito un elemento a favore del sistema Italia questo aspetto questa criticità è insieme all'impatto sul sistema dei prezzi della crescita che abbiamo visto prima con IPCA della crescita dei beni energetici che ahimè si sta trasmettendo all'intero sistema dei prezzi sia al consumo ma sia ai prezzi alla produzione anche i dati di Eurostat sono particolarmente scoraggianti in questa in questa direzione e quindi questi deficit di bilancia commerciale saldo di bilancia commerciale e diffusione delle spinte a rialzo dei prezzi rappresentano i due forti elementi di criticità solitamente noi presentavamo anche degli scenari alternativi per misurare quanto fattori di criticità potessero danneggiare o comunque potessero avere un impatto sul PIL questa volta non l'abbiamo fatto ma perché gli elementi gli scenari a disposizione possono essere molto variegati e l'intensità che noi possiamo dare alle diverse componenti sono anch'esse all'interno di un range molto ampio quindi come si diceva prima la congiuntura è un periodo in cui bisogna osservarla direi quasi giorno per giorno con le informazioni a disposizione i prossimi giorni ci sarà il dato della produzione industriale di aprile che è un altro dato da tenere in forte considerazione quindi questo è il quadro generale e nel nostro quadro generale che come dire assume nel corso del 23 un ridimensionamento delle spinte inflazionistiche che assume nel corso del 22 ma anche del 23 un'evoluzione del mercato del lavoro in linea con quella del PIL diciamo diciamo l'Italia sperimenterà ancora un biegno di crescita del PIL con forti criticità soprattutto per quello che accadrà verso la fine dell'anno e nel 23 per cercare dove i fattori di rischio che citavo prima la potenziale ulteriore riduzione del commercio internazionale il potenziale la potenziale ripresa dei tassi di interesse sono tutti i fattori che potrebbero minare pesantemente i numeri che abbiamo diffuso oggi grazie grazie Fabio ecco solo per un riferimento ai colleghi ricordo che il 2,8 eccoci no dicevo che il più 2,8 che viene dato oggi come previsione può essere raffrontato con l'acquisito dell'anno che in questo momento è 2,6 è una previsione lievemente più positiva rispetto a quella che ha rilasciato pochi giorni fa la Commissione Europea in riferimento invece all'inflazione forse non so se Cristina vuole aggiungere qualche considerazione sulla dinamica noi in particolare stiamo vedendo come il cosiddetto carrello della spesa cioè i beni ad altra frequenza d'acquisto si sta percolosamente avvicinando all'indice generale e non sappiamo cosa avverrà nei prossimi mesi però certamente sono dinamiche che sono davvero nuove credo sì grazie Davide insomma il tasso di inflazione lo sappiamo è arrivato al 6,9% riprendendo quindi un sentiero di crescita che si era interrotto ad aprile con il taglio delle accise dei bonus sociali ma quello che forse è più preoccupante è l'alto l'aumento dei prezzi anche al netto dei beni energetici e degli alimentari la core inflation l'inflazione di fondo è balzata al 3,3% quindi e questo avviene più o meno nell'area euro allo stesso modo quindi non è solo fra l'altro un problema di appunto conflitto in Ucraina a determinare questo andamento perché l'incremento dei prezzi è cominciato prima del conflitto già a dicembre dell'anno scorso i beni energetici avevano raggiunto livelli molto alti e questo è da collegarsi anche ai problemi climatici ricordiamoci per esempio la crisi canadese con la siccità dello scorso anno che si riflette adesso sui prezzi di alcuni beni alimentari quindi abbiamo un intreccio di concause diciamo che certo sono preoccupanti che inevitabilmente faranno agire la banca centrale nella direzione di contenere l'inflazione controllare l'inflazione con una revisione dei tassi di interesse e questo in un paese come il nostro con un in cui appunto abbiamo un alto indebitamento diciamo questo produrrà degli effetti evidentemente ci colpirà in maniera più intensa quindi gli interventi che dovranno essere gli interventi di bilancio che dovranno essere agiti dal governo dovranno essere ben mirati ben calibrati proprio per aumentarne l'efficacia massimizzare diciamo l'efficacia diminuire e contenerne il costo certo grazie grazie Cristina ecco se i colleghi se i giornalisti collegati vogliono fare delle domande questo direi è il momento giusto su tutti e due i temi che abbiamo presentato se lo ritenete con una alzando la mano vi do la parola molto volentieri prego di nuovo Kevin sì no la mia domanda è perché non fate una previsione sull'inflazione headline io penso che un comunicato di questo genere ho fatto previsione su PIL previsione sulla disoccupazione io penso che gli italiani vorrebbero sapere qual è la vostra previsione sull'inflazione perché purtroppo devono le spese degli italiani anche include l'energia importata e anche il cibo eccetera eccetera questa è una domanda per Fabio Bacchini noi nel quadro macro come avrei visto mettiamo i deflatori del prodotto e dei consumi però Fabio può spiegare perché è il modello no allora grazie Kevin mettiamolo in agenda cioè why not e tieni conto che comunque il deflatore dei consumi è un parente abbastanza prossimo dell'headline però sì ne teniamo conto e il modello può essere facilmente esteso per tirare per includere anche questo indicatore magari ne parliamo internamente però per l'uscita di dicembre potrebbe essere un ulteriore indicatore da mettere nel set diffuso grazie 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 Kevin se ci sono altri colleghi che vogliono fare delle domande prego io tra l'altro mi scuso con alcuni alcuni dei colleghi che ho visto si sono non sono riusciti vedo una mano alzata ma non vedo il nome e do la parola senz'altro prego buongiorno sono Alberto Chiumento volevo chiedere una cosa è corretto dire che la bilancia commerciale sarebbe positiva qualora togliessimo gli effetti dei costi dei beni energetici oppure sbaglio grazie prego Fabio sì nel allora più che costi la componente i prodotti energetici nel senso sono se lei vede anche il comunicato del allora c'è la figura 3 nel comunicato previsioni in cui ci sono i due i due saldi uno è il saldo dei beni energetici e l'altro il saldo escludendo i beni energetici e di fatto adesso se non ricordo male nel a marzo abbiamo un deficit di 84 milioni ma questo deficit è praticamente il risultato di due forze di più o meno la stessa intensità che sono la parte energetica dove il segno è drammaticamente meno e tutto il resto dei prodotti in cui il saldo fortunatamente è positivo e questo come dire è un elemento storico nel senso che sono solo le forze in maniera che hanno un'intensità diversa in questo periodo perché l'effetto prezzo all'interno della bilancia commerciale come dire c'è e quindi di volta in volta noi stiamo pagando i beni energetici sempre di più e tutto quello che esportiamo riesce sempre con maggiore fatica a compensare quello che noi pieghiamo per l'importazione dei beni energetici spero sia chiaro ma i dati del commercio estero sono da questo punto di vista perfettamente parlanti grazie certo sì certo abbiamo visto in questi mesi appunto anche un disallenamento tra valori e volumi che da soli spiegano come c'è questa componente prezzo che sta effettivamente incidendo sui saldi commerciali è chiaro che veniamo da un da un anno con un avanzo importante anche dovuto al rimbalzo del prodotto e dell'intera economia e ora ci troviamo nella situazione che è ortogonalmente sull'altro lato insomma ok se non ci sono altre domande di colleghi io credo io credo che abbiamo che abbiamo dato insomma una illustrazione piuttosto piuttosto compiuta di queste due pubblicazioni di oggi l'idea era appunto offrire l'opportunità di un approfondimento a tutti voi io ricordo che questa conferenza stampa è stata registrata quindi sarà comunque messa a disposizione per chi lo vorrà sul nostro sito per utilizzarne parti c'è un'altra mano alzata forse possiamo prego io non vedo il nome ma prego ciao Davide sono Teresa Trillò mi senti mi sentite io vorrei fare una domanda non so se è stata fatta perché mi sono scollegata per 5 minuti e devo registrare il pezzo per le 12 ci sono sull'incremento del PIL ci sono dei rischi a ribasso vorrei sapere se avete calcolato una stima di quanto potrebbe scendere il PIL proprio per l'effetto dell'aumento dell'inflazione l'aumento dei tassi che sicuramente ci sarà e per la diminuzione del commercio estero avete una stima di quanto 0 2 0 3 0 4 grazie no non l'abbiamo fatta ma semplicemente perché come lei diceva i parametri dei quali tener conto per configurare scenari sono abbastanza quindi quello che noi abbiamo segnalato è forti rischi a ribasso ma quantificazioni come abbiamo fatto mi pare un paio di mesi fa nella nota mensile sull'economia italiana cercheremo di farli nel momento in cui alcuni di questi elementi possano essere di migliore quantificazione grazie ecco io nel mio piccolo se posso aggiungere a Teresa oltre alle variabili che hai citato c'è anche la variabile PNRR e i tempi di implementazione quest'anno sarebbero attesi 44 miliardi di trasferimenti però ci sono un centinaio circa di progetti tra investimenti segnalati di medio lungo quindi bisogna capire appunto le variabili sono numerose e il modello naturalmente è settato in un certo modo per considerarne solamente alcune se sono stato corretto Fabio dimmi tu no nel senso parzialmente se posso Davide noi abbiamo WeTrust nel modello quindi il modello si adatta alle diverse specificazioni di quelle che possono essere considerate i shock esogeni il punto è che siccome le forze in movimento sono molteplici diventa molto complicato capire quale scenario cerchiamo di fare quello che lei diceva alziamo i 10 punti tassi di interesse ma mettiamoci anche 0,5 che crolla il commercio internazionale ma mettiamoci forse anche altri 10 punti di gas ecco su questo direi che forse conviene aspettare i prossimi mesi per vedere un po' più con maggiore precisione quali possono essere le intensità di queste forze e anche la sequenza di queste forze diceva anche Davide eventuali difficoltà nei piani realizzativi del PNRR con problemi sugli investimenti adesso la stima degli investimenti che abbiamo noi ora non prevede particolari ostacoli nei piani ma nel momento in cui ci sono ostacoli è chiaro che anche questa questa previsione diventerebbe particolarmente benevola grazie forse se non la vedo male c'è di nuovo una domanda di Gavin prego sì scusa che sto monopolizzando la cosa no no prego che ho notato negli ultimi l'ultimo periodo negli ultimi pochi anni forse meno di anni sicuramente vari trimestri che più volte la prima stima del PIL vostra poi viene rivisto a rialzo nella stima definitiva la domanda è se questa ormai è una specie di trend che possiamo anche aspettarci che la stima preliminare più tre volte viene rivisto a rialzo e se è così non sarebbe il caso di rivedere il vostro modello per calcolare la stima preliminare perché se quello è sempre troppo basso forse quando lo calcolate potreste non so rivedere le vostre metodologie ecco questa è la domanda come diceva prima Fabio noi crediamo nel nostro modello però forse Fabio vuole dare una risposta su queste precedenti allora come dire è un po' la mia un'invasione di campo perché la domanda è più per Giovanni Savio e per il gruppo di contabilità nazionale direi Gavin hai alcune evidenze di correzione a rialzo tra prima stima e seconda stima ti direbbe come dire una persona che al momento abbiamo beatamente mandato in pensione che è Gianpaolo Neto ti direbbe che è un aspetto eventualmente da approfondire però però il problema è le sono le fonti informative che tu hai a disposizione e quindi come sapete la parte ad esempio dei servizi è quando si arriva alla stima preliminare ha una copertura particolarmente contenuta quindi di questo aspetto ne devi tener conto ora ci possono essere episodi in cui queste correzioni vanno in una direzione sistematica direi sarebbe da approfondire ma qui possiamo girare la palla ai nostri esperti di contabilità che hanno la possibilità anche di vedere su quali componenti magari ha agito di più la revisione perché noi quello che vediamo è il dato il dato aggregato mentre invece ci possono essere degli aspetti sulle singole componenti che possono invece quelle sì fornire un elemento utile per eventuali correzioni ultima cosa su questa su questi aspetti della tempestività dell'informazione disponibile tenete conto che si sta facendo uno sforzo molto molto ampio che è stato attivato durante il covid sulla fatturazione elettronica per cercare di acquisire quei dati che insomma se disponibili se disponibili a livello micro potrebbero permettere e trattati statisticamente cioè quindi eliminazioni di outliers e via dicendo potrebbero quelli sì permettere un miglioramento della qualità della stima grazie la quantificazione del fatturato dei servizi servizi pesano in Italia parecchio e quindi penso che l'auspicio tuo di uso e di uso statistico dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica possa essere un bel passo avanti nella quantificazione del fatturato dovuto ai servizi grazie grazie anche Monica se non ci sono altre domande ai colleghi ringraziare tutti per quest'ora che abbiamo condiviso e per le domande che abbiamo ricevuto speriamo di avere fatto un servizio in più come la nostra missione di illustrazione e di spiega come si dice di questi dati e di queste analisi ringrazio ancora tutti ricordo ancora che la registrazione verrà poi messa sul sito a disposizione di chi non ha potuto partecipare e grazie alla prossima occasione venerdì il dato come ricordava prima Fabio Bacchini sulla produzione industriale del mese di aprile il primo mese del secondo trimestre dell'anno vedremo come andrà grazie ancora a tutti e buon lavoro grazie 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 buon lavoro grazie grazie grazie